Piccola nota così siete avvisati, questo video risale a 3-4 anni fa, quindi la qualità del commento li fa schifo, la qualità visiva del video pure e perciò vi ricordo non rappresenta la qualità attuale del canale, vi ricordo questo video di 3-4 anni fa, spettatore avvisato Bene ragazzi, vedremo cosa accade nella quarantena in questa parte Che succede? Non lo so, c'è qualcosa qui Oddio! Un teletubbies OGM No, il teletubbies OGM, no, non li voglio, no Come fa? Dov'è? Corri 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 Veniamo giù dai monti, dai monti prati in fiore Che bella novità E Isaac Il pirla Dai, dai, apriti, 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 apriti Chiuditi, 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 chiuditi Oh L'addio, non me lo ricordavo No, no Non me lo ricordavo L'ho fatto tempo fa Opzioni, luminosità, aumentati Sì, sì, l'aumento perché avrete visto che ho tolto io i 1080p Ho messo i 720p, così ci metto anche di meno a caricare i video Perché sia per questo sia appunto perché comunque non tutti i computer reggono i 1080p Sono più che altro i 720p che reggono E perciò appunto ho abbassato e l'ho aumentata la luminosità Così dovremmo essere comunque a posto Tanto non è che sia sempre al buio come Soul 2 questo qua Quindi è già meglio Cos'era? Oh, oh Oh, cos'è? Ma che cazzo è sto rumore? Cos'è? Allora, L1, più R1, fuoco Oddio, ma perché l'ho sprecato così? Ma non ha senso Pugno Ah, ecco, il calcio R2, ok Ecco, potevo farlo così Ok Con cos'è che ricarico? X Controllo bene in giro Olè Oddio, no, no 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 Già mai Già mai Ok Ok E' un andato Azzai Ok ragazzi Si può continuare Ci sei tu? Oh, sei qua Vabbè, io corro perché c'è Vai, 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 vai Dio Cos'è, no Cos'è, cos'è Dov'era? Sento un rumore Eh Tasto salute quadrato Va bene, va bene, va bene Ancora, va bene Dammi le due, va bene A volte Credo che sarò accompagnato da Rico A fare i commenti Perché farlo da sole Perché farlo da sole è veramente una cosa brutta Non perché è brutto in sé Perché è abbastanza È abbastanza inquietante sto gioco Almeno in due È un po' più Cos'è? È un po' più calmo Isaac Isaac Ma grazie Tanto Isaac non parla Notato Lui non può parlare Lui non sa parlare Ma se ne è accorto Sono teletubbies OGM Te l'ho già detto Ma prima dovremo riparare Il sistema di trasporto Tu sei matto, Elmond Ci vado a fare i coppi Tanto ci vado io Se mi ascolti ti porterò fuori da qui Sarai salva Qual è il problema con il trasporto? Oh 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 La scheda è andata Ma dovrebbe essercene una Di ricambio nel centro manutenzione Però c'è un trasporto di navaria Che blocca il tuo Dovremo riparare Dannazione Se tu è bloccato dalla quarantena Non possiamo arrivarci da qui Noi no Ma tu puoi Ah ma siete lì Ascolta Se arrivo al ponte Avrò accesso a tutti i file del personale Riparo la vettura E ti aiuterò a trovare ricorda Oddio Che cabassa Questi rumori Comando rapido Cosa Selt Cambio obiettivo X No no Io faccio la storia principale Basta Se c'è roba secondaria Me ne sbatto altamente Salviamo E ci vediamo nella prossima parte Ciao ciao Bene ragazzi Cioè Abbastanza male in sto gioco Comunque abbiamo Appena salvato Abbiamo salvato E perciò possiamo Andare avanti Di qua no? Si Controllate ovunque Se anche voi giocate Giocate qui Controllate sempre Cos'è? No Un ombro No L'ombro No Stai fingendo Addio E' vero E' una cosa E' vero Controllate sempre Le spalle Ma no No Ma perché Salvi No Vabbè comunque Controllate sempre Le spalle Sempre Perché Il brutto di sto gioco E' che è di chi Terri che arrivano Da dietro Finchè sono così Davanti Va bene Ma quando Quando poi arrivano Da dietro Lì è davvero Brutto Cos'è? Vabbè E' brutto Anche quando In effetti Arrivano da sopra Vazzà Vazzè Via 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 Ma dai Slemma gli avversari Per uccidere In fetta Slemma gli avversari Per rallentarli Grazie Grazie Togli la scritta Che non vedo Grazie Via Corri Corri Forrest Coglione Io E quando Ho detto Ma si Facciamolo Il let's play Di this space Diciamo Che avrei fatto Anche del 2 Ma si Quel giorno Dovevo essere Drogato Ok Va bene Va bene Va bene Questo cos'è? Ah Ricarica Vazzè Vazzà Venite Cagnolini Venite Che cazzo era? Pac di stasi Eh vai Vazzà Vazzà Ragazzi Sono fottuto Sto qui Sto qui Sto qui La tattica La tattica È qui Ah Oh Ah ok Minchia Questa La Prima volta Che ci ho giocato Non mi era successo Però Lì c'è il bagno Ma non ci andrò mai Salvati 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 Che c'è calma Salvati Che c'è calma Questo è solo il capitolo 1 Ma da quante ore è che sto giocando? Già Sono 20 minuti Che ora è? Sono le 23.02 Ma che Andare avanti Sono le 10.02 Di sera E giocare a staffare qui alle 10.02 Non ve lo consiglierò Mai Ok Ma proprio Non fatelo Cioè Non è che sto fingendo Proprio non fatelo Proprio un consiglio Che vi do Cos'è? Che cazzo è? Niente Cos'è niente? Allora Se faccio questo Ma questo qua era molto semplice Sai Corri 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 Oddio Non corre più Non corre Non corre Non corre Non corre Ma chi se ne frega Ma no Ma non me lo dico adesso Ma non è il caso C'è qualcosa che corre C'è qualcosa che corre E noi Non sono io No Ok 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 Niente Crediti Non me ne faccio nulla Oddio Di nuovo Di nuovo No 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 E vaffanculo Ma che Li ho collegati Li ho collegati Oh No 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 Non di nuovo Dai Venite Cagnolini A me avete capito Che il soprannome Che gli ho dato È Cagnolini Siamo a 5 minuti e mezzo E vedremo come va a finire Nella prossima parte Spero inhos A partager A Che A A A A A A A